Giovanni XXIII, il Papa Buono, Giovanni Paolo II, il Papa dei Giovani. Ed Italia e la Zecca dello Stato celebrano i Papi Santi del XX secolo con due volumi di pregio e due medaglie commemorative, preziose opere da collezione in tiratura limitata e certificate. I volumi di pregio sono ricchi di immagini inedite che raccontano i momenti più emozionanti del loro pontificato e della canonizzazione racchiuse in una copertina scultorea, un basso rilievo interamente lavorato a mano da maestri e artigiani. Le preziose medaglie con impresse le immagini dei due pontifici in momenti di preghiera e meditazione sono in oro e in tiratura limitata, coniate e certificate dalla Zecca dello Stato. Per informazioni telefonate all'894 4050 e riceverete in omaggio il ritratto inciso di Papa Voitivore. I Papi Santi del XX secolo, opere esclusive da custodire e tramandare. 800 94 4050